Buonasera, sono Francesco Ridolfi, responsabile dei finanziamenti Deutsche Bank Easy per conto di Autocash Pesaro. Oggi è importante stare attenti alle truffe, soprattutto online, soprattutto perpetrate tramite proposte di acquisto da privati, quasi sempre, con emissioni di assegni circolari. Gli assegni circolari facilmente possono essere trafugati, possono essere non validi, possono essere falsi. Il modo più semplice per verificare che l'assegno circolare che ci viene dato sia buono è quello di chiedere alla filiale della banca che l'hai messo la bene emissione. La bene emissione si chiede tranquillamente tramite telefonata, negli orari di sportello e laddove la filiale della banca emittente circolare ci dà l'ok, significa che il circolare è autentico, semplicissimo. Questa attività è consigliabile farla fare al venditore, al proprio consulente della banca o a qualcuno del settore per evitare che appunto ci possano essere delle informazioni distorte che noi come privati, magari non del settore, potremmo rischiare di non comprendere. Questo è quanto. Buonasera.